Sotto qualsiasi punto di vista lo si guardi, Bayonetta 2 offre a tutti i possessori di Wii U qualcosa di ancor più eccezionale e ricco del precedente capitolo. Ogni innesso a livello di gameplay del nuovo titolo Platinum è infatti tutt'altro che una mera giustificazione per il numero all'interno del titolo, bensì una meccanica che arricchisce e perfeziona un sistema di combattimento già di per sé sbalorditivo. Insieme ad una mappatura dei comandi che nuove misure del gamepad Wii U a parte ricalca fedelmente quella del precedente episodio, tornano anche i pilastri portanti del combat system. Tolta ancora una volta qualsiasi velleità di parata è nuovamente l'agile schivata via tasto dorsale a recitare la parte della protagonista insieme all'ormai celeberrimo Witch Time. L'utilizzo di tale potere diventa basilare in un gameplay che richiede ancora una volta la concatenazione di combo componibili a proprio piacimento e la memorizzazione di moltissimi pattern d'attacco nemici. Sarà tutt'altro che improbabile infatti ritrovarsi nel bel mezzo di scontri nei quali le tipologie nemiche sul campo saranno di diversi tipi, costringendo il giocatore ad una lettura delle dinamiche su schermo ancor più tempestiva che in precedenza, ma dalla quale col giusto allenamento potranno nascere scontri assolutamente memorabili e dal senso di appagamento unico nel genere. Tra le introduzioni più significative troviamo sicuramente il nuovo Umbran Climax. Non appena l'indicatore di potere magico sarà al massimo potremo infatti entrare in una modalità nella quale calci e pugni standard saranno sostituiti da attacchi di demoni infernali. Questa nuova opzione inserisce nel sistema di combattimento ulteriore potere decisionale a favore del giocatore. A parità di potere magico infatti sarà nuovamente possibile usufruire anche dei crudeli torture attack di Bayonetta, che ora dovrà quindi scegliere se propagare la propria potenza d'attacco su un'area più vasta tramite l'Umbran Climax, o concentrare i propri sforzi su un solo malcapitato? A livello di arsenale a disposizione, oltre che alle redizioni delle armi già conosciute nel precedente episodio, troviamo innesti significativi, come il nuovo Arco Kafka. Le già ottime rigiocabilità e varietà del primo Bayonetta vengono qui arricchite dalla presenza di ulteriori aree segrete all'interno dei livelli e di simpatiche variazioni sul tema del tradizionale combat system in sezioni del perfetto stile afterburner o a bordo di un vero e proprio mech. Arricchisce l'offerta anche la nuova modalità cooperativa online doppia apoteosi, nella quale due giocatori potranno combattere all'interno di sei diverse aree nella sequenza di nemici da loro scelta. Dal punto di vista tecnico, il lavoro svolto da Platinum Games appare nel complesso come una delle migliori dimostrazioni di potenza dell'hardware Nintendo. Nonostante qualche problema di aliasing e certe texture poco definite, il framerate risulta ottimo in ogni occasione, accompagnato da un livello di dettaglio e da una qualità delle animazioni sbalorditive. Scene d'azione mozzafiato e scontri spettacolari permettono di perdonare la presenza di alcuni elementi secondari meno curati di altri, anche grazie ad un design di personaggi e nemici di primissimo livello. Un doveroso plauso inoltre va indirizzato al lavoro svolto a livello di ambientazioni, con visioni di inferno e paradiso lontane da quelle tipiche dell'immaginario collettivo, ma al contempo familiari e capaci di lasciare sbalorditi per la magnificenza di alcuni paesaggi. Ad accompagnare l'azione di gioco, infine, troviamo ancora i temi orchestrali e epici perfettamente adatti all'occasione, così come rivisitazioni in chiave J-pop di classici come Moonriver, insieme ad un doppiaggio inglese o giapponese con sottotitoli in italiano, tutto sommato ben recitato in entrambi i casi. Bayonetta 2 sfrutta le basi di un beat'em up action quasi perfetto per costruire un'esperienza di gioco ancora più roboante, vorticosa e ricca di quella del suo primo capitolo. L'assimilazione e la padronanza di tecniche combo via via più spettacolari è infatti nuovamente uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco in questo sequel, che a livello di pura spettacolarità raggiunge nuove vette per il genere. Le coreografie ai quali i combattimenti sembrano sottostare si integrano infatti perfettamente a scene di intermezzo nelle quali Bayonetta dà sfoggio dei suoi devastanti poteri, con momenti memorabili nei quali gli scontri si spostano dalle classiche ambientazioni gotiche al centro di giganteschi cicloni acquatici, o nei caotici cieli antistanti le porte del paradiso. La regina degli Stylish Games, insomma, spodesta e supera se stessa con un titolo che arricchisce il proprio predecessore, perfezionandone in modo profondo le regole, ma senza riscriverle, spiegando nuovamente ai giocatori gli infiniti piaceri di un sistema di combattimento ancora senza uguali, mostrando inequivocabilmente al mondo il motivo più importante per il quale oggi possedere un Wii U.